Gentili telespettatori, buona giornata. Ecco la nuova idea del governo per il settore dei balneari, che è 18 anni che viene prorogato. E sì, la direttiva europea chiamata Bolkstein è del 2006, siamo quasi nel 2025, significa che sono 18 anni che dieci governi prorogano, passano la palla più in là, al prossimo governo. Oggi facciamo la stessa cosa con i balneari a cui si è evidentemente promesso di non attuare la Bolkstein, il governo sta pensando a una soluzione nuova. Nel caso minimo, e poi vedremo che cos'è il caso minimo, nel caso minimo c'è un altro anno di proroga, valide fino al 2025, quindi scadevano a fine 2024, si passa a fine 2025, caso minimo. Mentre per il resto, nelle regioni con spiagge libere oltre il 25%, la proroga è al 2029, fino alla fine del 2029, altri 5-6 anni di proroga. I canoni delle spiagge verrebbero alzati del 10%. Quindi il governo, secondo il sole 24 ore, sta lavorando a un nuovo piano per i balneari, da sottoporre alla Commissione europea. Beh, la Commissione europea ha già detto mo' basta, mo' basta, perché, ha fatto capire, state prorogando dal 2006, sono 18 anni che tirate la palla in tribuna, è ora di finirla, anche perché si potrebbe finire davanti alla Corte di Giustizia europea, dopo 18 anni di palla in tribuna. Secondo il governo, nella nuova bozza che è venuta fuori dal sole 24 ore, nel caso, fino al 31 dicembre 2025, ci sarebbe questa provoroga di base, nel caso ci siano ragioni oggettive che impediscano le nuove gare. La nuova bozza supera queste scadenze, ok alle gare come vuole l'Unione europea, ma solo dopo ulteriori proroghe. Come dire, è 18 anni che si dice, certo che lo faremo, però dobbiamo fare una proroga. Ecco. Così, la concessione basica sarebbe stesa al 31 dicembre del 2027, nelle regioni in cui le spiagge libere risulteranno inferiori al 25%, e fino al 31 dicembre 2029, nelle regioni in cui la percentuale di superficie ancora concedibile sarà superiore al 25%. La linea del governo è di rimandare le gare laddove ci siano più spiagge, più spiagge libere. Gli altri poi problemi da risolvere sono gli indennizi da corrispondere ai titolari di concessione che dovessero perderla. Sempre secondo questa bozza diffusa dal sole 24 ore, il piano prevede che gli attuali concessionari possano esercitare una prelazione. In caso di mancanza di altre offerte, la concessione verrebbe prolungata di sette anni. Nel caso di perdita della concessione, in seguito alla gara, i vecchi titolari avrebbero comunque diritto a un indennizzo da determinare con una perizia asseverata. Quindi c'è la prelazione per chi ha già la concessione. Bisogna capire poi in che termini questa prelazione, esattamente che cosa significa. In caso di parità di offerta vingono loro o che tipo di prelazione è? Intanto ci sarà un aumento del canone del 10% perché il governo tira la palla in tribuna, come dire adesso per altri anni non vi preoccupate, però in cambio l'ipotesi allo studio prevede un incremento del canone di concessione del 10% nel caso in cui l'aggiornamento con un decreto del ministero dell'economia non venga adottato entro il 30 aprile del 2025. Quindi, visto che il governo Meloni aveva fatto esplicitamente una promessa elettorale a questo settore, votateci, ci pensiamo noi. Ovviamente adesso, a meno che la Meloni cambia assolutamente idea, ma probabilmente si va con delle proroghe e poi l'Europa faccia quello che vuole, molte corte di giustizia europea. Il problema è che l'Italia si fonda sul turismo. Pensate che gli stabilimenti balneari sono aumentati del 26%, cioè in Italia dal 2011 ad oggi c'è uno stabilimento in più ogni 4, ogni 4 ce n'è uno in più, altri 4 uno in più, quindi un aumento di circa il 25-26% degli stabilimenti balneari, perché è un'attività che è diventata abbastanza redditizia, perché evidentemente, come voi ben sapete, i costi oggi per chi va in spiaggia si sono decisamente elevati. Se volete la spiaggia attrezzata, dove arrivate e vi sedete sul lettino senza dovervi portare i lettini dalla macchina, l'ombrellone dalla macchina, piantare l'ombrellone, se volete tutto già lì, allora si paga delle cifre anche consistenti. Molti dicono, ma no, ma è per il servizio. Allora, due settimane fa ero in spiaggia e c'è la spiaggia con gli ombrelloni lì della struttura, tu puoi prendere l'ombrellone con due sdraio, paghi, lì c'è il bar, il ristorante, il bagno, la doccia, però finita la spiaggia, quella attrezzata, c'è spiaggia libera a destra e sinistra. Se tu arrivi lì, nella spiaggia libera, col tuo ombrellone e la tua sdraio, a mezzogiorno l'una puoi andare lo stesso al bar, a mangiare al ristorante lì dello stabilimento, puoi andare lo stesso al bar, puoi andare lo stesso lì al bagno, puoi andare lo stesso lì a farti la doccia, quindi quando si dice uno paga tanto per i servizi, tra quello che paga per l'ombrellone e le due sdraio e quello a dieci metri che ha il suo ombrellone e il suo sdraio, perché dove sono andato io era tutta spiaggia libera tranne questo stabilimento, ma tutti quelli della spiaggia libera usufruiscono del bar dello stabilimento, eventualmente del ristorante dello stabilimento e di tutti i servizi, quindi a volte ho sentito dire si pagano i servizi, bah, arrivederci a tutti e grazie.